Musica Questa mattina, presso la sede dell'assessorato alle pari opportunità, l'assessore Pina Tommasielli ha incontrato Kelly Ecevarri, rappresentante della ruta pacifica della Smoheres de Colombia, in visita nella nostra città su invito delle donne in nero e dell'Udi di Napoli. Erano presenti donne delle istituzioni, delle associazioni e dei vari organismi femminili per ascoltare le testimonianze e discutere delle leggi per eliminare la violenza sessuata su donne e bambine. Sono state accolte dalle nostre associazioni femminili, quindi dall'Udi, dalle donne in nero e dalle donne delle istituzioni. Questo asse virtuale per sottolineare i femminicidi, femminicidi che avvengono sicuramente nei teatri di guerra, la prostituzione delle bambine, eccetera, che sono eventi e sono condizioni che sicuramente fanno rabbrividire e richiedono da parte nostra un impegno ancora più forte anche per le nostre donne che ancora muoiono troppo di femminicidi. Ne abbiamo dall'inizio dell'anno circa 15 femminicidi che maturano in varie situazioni, non solo in situazioni di degrado, ma in varie situazioni sociali. Il contrasto va fatto con una legge organica che le donne di Napoli da tempo stanno chiedendo al governo, una legge organica di contrasto alla violenza che prevede anche il risarcimento delle vittime della violenza esattamente come il risarcimento delle vittime della strada, per esempio, o delle vittime della criminalità.